Bene ragazzi, allora questo fine settimana a partire da venerdì e poi per sabato e domenica, venerdì dalle 5 alle 8 e sabato e domenica dalle 9 alle 4 ci sarà l'evento del Tobi Kadashi, sponeranno un sacco di Tobi Kadashi e quindi appunto abbiamo la possibilità di farmarle di più. Ricordatevi che non è come la volta scorsa raga, il primo giorno dei Diablos quando ne avete visti relativamente pochi era un bug, quindi effettivamente ne sponeranno di parecchi. È un ottimo evento perché il Tobi Kadashi usualmente non spona spessissimo e visto che la settimana successiva arriveranno le Rathian e le Rathian Rosa, le armi Tuono sono le migliori armi attualmente per affrontare Rathian e Rathian Rosa, quindi ovviamente anche per me stesso e per il mio gruppo è chiaro che noi non abbiamo armi super mega gigatop di Kadashi e sfrutteremo questo tempo per cercare appunto di accaparrarci il maggior numero di armi possibili di Tobi Kadashi, almeno al più alto livello possibile. Questo vale per le armi e vale in realtà anche in parte per l'armatura perché le armature di Tobi Kadashi porta con sé dei perk utili per esempio a Thunder Attack che chiaramente noi vogliamo andare a utilizzare. E abbiamo anche i parabraccia che hanno e vede che stendere Airfull Dodger che può essere utilizzato in alcuni set per, diciamo, set safe ecco. E portando a un certo livello iniziano a dare anche molteplici punti di bonus suono, bla 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 bla. Comunque pezzi di armatura molto utili, armi ovviamente molto utili, ripeto, non tanto per il Kadashi stesso ma perché la Rathian Rosa probabilmente sarà molto forte, come è stata molto forte anche la Diablos nera. Ora, qual è questo video? Cosa vi consiglio chiaramente? Chiaramente questi eventi qui sono da giocare multiplayer, è più vantaggioso, sono anche più safe, durano tanto, non vogliamo consumare troppe pozioni. Potete accumulare fino a 15 pozioni. Come fare questa cosa? Allora, il giorno prima, ragazzi, dovete aver raggiunto le 10 pozioni, cioè le 10 medicazioni, come lo sto facendo io. Anche se utilizzando l'arco, finalmente ragazzi, devo dire la verità, sto usando veramente pochissime pozioni perché con questo set non vi prende nessuno, obliterate qualsiasi cosa, non ha assolutamente senso. Comunque, arrivate ad avere 10 aid med, che ne so, di giovedì, se volete giocare all'evento venerdì, venerdì non riscattate, ok, le pozioni del giorno e questo ovviamente fa sì che ne avete fatto al mente 15, ok? Quindi consumate le prime 5, riscattate e a quel punto avete tornato ad avere di fatto 10 pronto soccorso e di conseguenza di fatto ne potete avere 15 fino a 15 in un solo giorno, che è ovviamente la migliore strategia possibile. Ovvero, 15 pozioni iniziano ad essere effettivamente un bel po', vi consiglio appunto di conservarle. Per quanto riguarda le armi, ovviamente Anything Goes, qualsiasi classe va bene, anche se, nota, Balestra Leggera è un po' svantaggiata questa volta perché per Balestra Leggera dovete andare con un'arma acqua, ma il Toby Kadaci è veramente tanto debole a veleno e il veleno è distruttivo. Ora, il mio consiglio è, se siete in un gruppo organizzato, avere almeno il 50% dei cacciatori con armi veleno, non acqua, anche perché ottimizzare armi acqua è veramente tosta, ragazzi, dovete affrontare i Giratodus, sono il male assoluto, accade veramente, 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 veramente tanto spesso che non vi dà mai le cose che vi servono. Ne avrò fatto infiniti i Giratodus e non ho manco portato un'arma a livello 6, ed è assurdo. Ovviamente vi serve l'arma e l'armatura, oltretutto, perché l'armatura di Jura vi dà attacco acqua, ed è fondamentale avere attacco elementale aumentato se volete giocare 7 elementali, raga, per forza. Se li avete, buono, ma a veleno li disintegra i Toby Kadaci. Ora, specialmente se avete armi veloci, io ve lo consiglio, ragazzi, onestamente. Quindi, potete andare tutti veleno, va benissimo, oppure 50% di Hunter, almeno con veleno, il resto di 50% acqua. E questo è. Per quanto riguarda, appunto, altro nello specifico, in realtà non è che c'è troppo da dire, appunto. Se dovete giocare armi acqua, chiaramente non avete l'opzione di utilizzare l'armatura di Giratodus, e queste sono robe che vi danno attacco acqua. Ovviamente, se non state utilizzando un'arma acqua nello specifico, e quindi avete, andate per un po' per anything goes, questo qui è il set che sto utilizzando io attualmente. Chiaramente potete twiccarlo, in base alle vostre necessità, perché ovviamente roba come le balestre avranno riduzioni di inculo, eccetera. Ma, per tutti gli altri, questo che vi sto facendo vedere è un set generico. Abbiamo Rathalos, vi dà attack boost, Rathalos ancora per punto debole. I parabraccia di Rathian vi danno burst e lock on, che sono ovviamente utili anche per i melee, oltretutto. I parabraccia di Rathian a livello 6 vi danno un secondo punto in burst, che è un'abilità estremamente forte, ragazzi. È broken in questa abilità, usate la migliore abilità offensiva del gioco, probabilmente. Non è ironically, in realtà è così. Il coil di Rathian portato a livello 6 vi dà un punto in burst, anche questo. Potete raggiungere quindi un totale del livello 3. E raga, 15% di bonus per 4 secondi, se giocate bene, è 15% di bonus per tutta la missione, per tutta la quest, ok? Questa roba è ridicola, va giocata con praticamente tutte le armi, tranne con spadone, dove però appunto non avrete nemmeno lo spazio, onestamente, per mettere questa qui, perché c'è un set con concentrazione che vi farò vedere. E infine i gambali, io sto utilizzando quelli di Kulu Yaku, mi danno critical eye a livello 2 a livello 6, oppure critical eye a livello 1 prima di livello 6, chiaramente. E appunto questi insieme a punto debole vi danno un bel po' di affinità. Ancora non sono riuscito a portare la mia armatura di Rathross a livello 6, che chiaramente questa, mi servono le viastre, ragazzi. Questa qui mi consente di avere weakness exploit a livello 2, perché nel caso 25 di questo più 15 del Kulu Yaku con occhio critico raggiungo il 40% di punto debole, la coda del Tobi Kadachi è un punto debole infinito, molto molto comodo. E se ovviamente avete robe tipo Hammer o Spade Scudo che riescono a targettare bene la testa, ben venga, anche per Spade Scudo potete utilizzare anche set super offensivi o con guardia, quindi anche roba più safe. Se volete giocare con Focus vi faccio vedere anche quest'altro set, che non ho, spoiler, non ho ancora finito, tra virgolette, nel senso non lo sto veramente utilizzando in questo momento, non sto letteralmente fermo, gioco comunque. Questo set è un set con concentrazioni, si compone del copricavo di Pukai Pukai, perché questo qui mi dà Focus, oltre che darmi al boost ovviamente a livello 6 potenzialmente. Poi, questo va bene per Arco, ma va bene anche per Spadone, questo set. La maglia di Pukai mi dà Focus, quindi con questo ho raggiunto Focus livello 2, ok? Ho i parabraccia di Rat, questo ovviamente danno Burst per Spadone, non serve per forza Burst, quindi potete andare con qualsiasi altra cosa, potete addirittura andare con quelle di Diablos nera, se il signore ha voluto darvi abbastanza materiali, potenzialmente appunto anche questa a livello 6 da Focus. La falda di Ratalos da Focus, e avete capito qual è la canzuccina qui, e anche i gambali di giura, oltretutto i gambali di giura portatele a livello 6, vi danno un secondo punto di Focus, che fa sempre comodo. Per Spadone portare Focus al massimo livello è importantissimo, alternativamente potete utilizzare protezione divina, quando avete usato protezione divina su Spadone e tirate una spallata, protezione divina si può di fatti attivare, e questo vi salva potenzialmente da svariati danni che potete incassare. Ultimo ma non ultimo potete girare il mio Immortal Set, questo Immortal Set che è il miglior set difensivo che si può fare in questo momento nel gioco, molto molto forte appunto per conservare pozioni in generale per questi eventi lunghi, se il danno non è un vostro problema, quindi principalmente multigiocatore. Questo set si compone di Elmo di Rathian per Health Boost, abbiamo il petto di Leggiana per Divine Blessing, abbiamo i parabraccia di Tobi Kadachi per Evasione Stese e Heartful Dodger, che è evasione aumentata, la falda di Paolumo sempre per Divine Blessing, e infine i gambali di Rathian per un ulteriore repunto in Health Boost. Chiaramente in questo momento io lo ho a un livello relativamente basso, io ho solamente Health Boost di livello 4 e Divine Blessing di livello 3, portate tutto quanto sopra, e se anche usate un'arma di Rathian vedrete che è molto facile raggiungere entrambe queste skill praticamente cappate. E quindi appunto è un ottimo set in generale, se volete giocare un pochino più safe, oltretutto appunto il Kadachi è stradebole a veneno, quindi comodo. Io quello che utilizzerò sarà il mio set fisico arco, questo qui, che oltretutto è generico, e poi ovviamente raga, adesso vi ho fatto vedere le cose al volo, in futuro entreremo un po' più nel dettaglio per qualsiasi cosa. Qui c'è stato anche un World Reset, quindi vediamo un po' che cosa è spawnato qui attorno, la bellizza di Zero Cose, mi fa molto piacere. E niente ragazzi, questo era per questo video, da Spec è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Bella!